Grazie a tutti. Catani, Cingolani, Donofrio, Filonzi, Garofoli, Giampaoletti, Gullace, Lenti, Magagnini, Mancia, Mancinelli, Marasca, Massaccesi, Olivi, Punzo, Rossetti Francesco, Rossetti Giorgio, Santinelli, Spaccia, Tesei, Torri. Sono presenti in aula 19 componenti. Grazie. Passo indietro come ordine del giorno perché era previsto verso le ore 15 e 30 l'audizione del legale rappresentante dell'amministratore delegato della Fondazione Pergolesi Spontini nell'ambito delle audizioni che faremo dei legali rappresentanti delle società partecipate. Quindi prego William Graziosi di avvicinarsi. Se si prenota, a lei. Buonasera a tutti. Fondazione Pergolesi Spontini, azienda culturale di produzione e servizi per il territorio. Il 2013 è stato un anno particolarmente difficile perché è stata proprio la punta estrema della crisi che non è sicuramente finita. Però l'anno scorso siamo arrivati al momento della fine del denaro che avevamo ricevuto come contribuzioni straordinarie e che noi avevamo in qualche maniera gestito al meglio delle possibilità relativamente alle celebrazioni pergolesiane. Quindi siamo quest'anno ancora peggio come bilancio economico, come denaro da gestire, però venivamo da anni piuttosto importanti proprio per le contribuzioni straordinarie ricevute per le celebrazioni pergolesiane. Però alla fine siamo riusciti a chiudere le attività della Fondazione Pergolesi Spontini in maniera positiva anche l'anno scorso rispetto a quelle che sono in principal modo per esempio le aspettative del Ministero dei Beni Culturali e quindi le contribuzioni che ci vengono date per le attività principali di produzione della Fondazione anche perché intorno ai due titoli ministeriali girano praticamente il 90% dei denari che arrivano alla Fondazione Pergolesi Spontini, al Comune prima e alla Fondazione Pergolesi Spontini oggi da quando ha la gestione del teatro. Sapete, e noi distribuiamo ogni anno e siamo stati i primi nelle Marche, fra i primi in Italia a produrre un bilancio sociale, lo facciamo da otto anni ed è diventato legge regionale credo che, sono sicuro anzi che è stato distribuito all'inizio di quest'anno quando l'abbiamo preparato nel bilancio sociale è stato scritto ed è scritto ogni anno esattamente quello che si fa da gennaio a dicembre voglio ricordare che una delle caratteristiche della Fondazione Pergolesi Spontini è proprio quella di non essere un'associazione o comunque una fondazione o un'attività temporale ma è un'attività che si svolge durante tutto l'anno con dieci attività quest'anno diverse l'anno scorso lo stesso, che vanno dalla prosa alla sinfonica, al teatro giovani, al teatro ragazzi poi il festival Pergolesi Spontini, la stagione lirica di tradizione e una miriade di altri eventi che vengono organizzati o gestiti insieme al Comune di Iesi all'interno del bilancio sociale noi abbiamo scritto che cosa succede mese per mese quindi a gennaio, febbraio, marzo e così dicendo che cosa è successo durante l'anno gli spettatori che sono venuti, che alla fine sono 44 mila circa sono state le persone che sono entrati nei teatri della città l'attività che abbiamo fatto con le aperture e la gestione dei teatri le aperture si intendono il teatro marciante, il teatro funzionante riscaldato, pulito, gestito, in sicurezza e messo a disposizione di chi viene a fare l'attività o la nostra in primis o l'attività ospitata l'anno scorso abbiamo ricevuto il premio Abbiati i due premi Abbiati che ci hanno portato a tre premi Abbiati sono i premi, sono l'Oscar della Lirica e sono dei riconoscimenti molto importanti perché ci elevano ad una conoscenza maggiore rispetto al panorama nazionale ed anche internazionale rispetto all'attività che abbiamo fatto l'anno 2013, vi dicevo prima, è stato veramente molto particolare perché abbiamo dovuto conciliare un'attività che è storica con delle risorse molto molto limitate tutto questo l'abbiamo fatto in stretta connessione e con una informazione puntuale non dico mese per mese ma quasi con il Ministero dei Beni Culturali andando a raccontare e ovviamente tutto l'iter che è l'iter necessario all'interno del CDA quindi l'informativa veniva data al CDA ma soprattutto al Ministero dei Beni Culturali che ci permette appunto di avere questi finanziamenti il Teatro Pergolesi è ubicato in una città la più piccola, sono cose che io dico da sempre ma che vale la pena ripetere la città più piccola in Italia ad ospitare un teatro di tradizione e una città che può andare avanti nella nostra attività soltanto con un'attività doverosamente nazionale e auspicabilmente internazionale ed è quello che noi stiamo facendo proprio nel nome di questi due autori che ci hanno dato un brand internazionale facilmente riconoscibile e anche rispetto a quella che è la possibilità data da tutto lo staff della fondazione di avere connessioni, interconnessioni a livello nazionale e possibilmente internazionale la gestione della fondazione non è una gestione soltanto locale in città il progetto nacque con l'idea di creare una sinergia e soprattutto un'attività che avesse come capoluogo nella Vallesina Iesi e che potesse in qualche maniera aiutare i comuni limitrofi a sostenere un'attività dispendiosa sicuramente, costosa ma facendo capo ad un unico ente che avesse al suo interno tutto quello che è necessario per questa particolare attività che è lo spettacolo dal vivo quindi come azienda, io ho sempre definito la fondazione per i coesiti pontini un'azienda, come azienda ha i vari reparti per permettere lo svolgersi dell'attività interna ma anche, come dicevo, per poter permettere a dei comuni che sono affiliati alla fondazione, sono soci della fondazione di poter avere un ufficio tecnico, un'amministrazione, un ufficio stampa un marketing che permettesse di svolgere l'attività con la rinomanza necessaria e soprattutto andando ad ottemperale quelle che sono necessità, ripeto, in alcuni casi ministeriali in altri casi regionali o comunali se devo, io posso elencare, Presidente, quelle che sono state le attività se devo posso elencare puntualmente tutte le attività da gennaio a dicembre siamo partiti con l'attività di prosa la stagione di produzione della fondazione è svolta storicamente nella seconda parte dell'anno la prima parte dell'anno è più un'attività di ospitalità si svolge da gennaio a maggio la stagione di prosa la stagione di prosa principale è ovviamente proprio recite di prosa che vengono organizzate, l'anno scorso venivano organizzate dall'AMAT quest'anno vengono organizzate dal teatro stabile dalla fondazione Marche Teatro e dall'AMAT congiuntamente all'interno di questo periodo che va da gennaio a maggio si svolgono anche le attività del teatro pirata per esempio del teatro dialettale, la stagione sinfonica con la form e con altri soggetti e l'attività del teatro giovani, l'attività del teatro ragazzi avevamo posizionato il festival poi in estate l'anno scorso e questo perché voleva essere un festival che nel nome di Pergolesi e Spontini intercettasse il turismo estivo quindi questa è una cosa che voglio sottolineare in questa sede l'idea era che Iesi potesse non essendo città di mare e non avendo un'arena di 2500 posti come lo Sferisterio si potesse comunque mettere in un programma da valorizzare a livello nazionale e internazionale di proposta estiva abbiamo dovuto per l'anno scorso proprio è stata fatta questa scelta di spostare il momento di produzione tutto insieme nella seconda parte dell'anno da settembre in poi perché appunto con la crisi che abbiamo dovuto anche noi gestire e soprattutto con la mancanza di climatizzazione all'interno del teatro Pergolesi non è possibile fare attività estiva è a mio modo di vedere una problematica seria che andrebbe in qualche maniera affrontata perché non poter fare attività all'interno del teatro per il troppo calore all'interno sia del teatro Pergolesi che del teatro Moriconi ci penalizza in quella parte dell'anno dove nelle Marche vengono tantissimi turisti per l'estate quindi il festival è stato spostato l'anno scorso nel periodo di produzione e nella seconda parte dell'anno abbiamo dato svolgimento alla stagione lirica e al festival Pergolesi Spontini l'attività della fondazione poi si diversifica anche perché nel nome di Pergolesi Spontini sono istituiti due centri studi e facciamo attività musicologica siamo editori musicali l'anno scorso abbiamo continuato anche se un po' più in sottotraccia a seguire gli studi sia pergolesiani che spontiniani il ministero dei beni culturali sezioni beni librari ci ha purtroppo penalizzato non continuando a derogare i fondi quest'anno sono ripresi anche se pochi per l'edizione nazionale e quindi non abbiamo potuto proseguire nell'attività di edizione nazionale pergolesiana ma abbiamo lo stesso continuato a produrre gli studi pergolesiani e adesso stiamo perfezionando la pubblicazione del decimo volume è un'attività questa che ci dà anche questa una visibilità internazionale perché noi continuiamo a ricevere richieste proprio in virtù del progetto pergolesiano che è stato realizzato negli anni 2009, 10 e 11 e che hanno avuto una fortissima evidenza mondiale stiamo continuando a ricevere richieste di materiali musicali da ogni parte del mondo per eseguire pergolesi perché ci viene riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto nel passato rispetto agli studi musicologici che erano stati avviati dal professor De Grada e che ci hanno permesso di produrre edizioni critiche dei nostri materiali questo è un altro settore dell'azienda fondazione pergolesi spontini che comunque collega Iesi con tutto il mondo nel nome dei due autori l'attività di sinergia assolutamente necessaria per il pergolesi è un'attività di sinergia che si può anche tradurre in coproduzioni che noi abbiamo sempre attivato che è soprattutto nelle mie corde è un tema a cui tengo moltissimo anche perché non è possibile pensare che come nel Medioevo stiamo intorno al pozzo di Palazzo della Signoria e lì ci abbeveriamo perché l'acqua non c'è più dobbiamo per forza di cose andare oltre i confini cittadini oltre le mura e dobbiamo assolutamente interagire con il territorio nazionale non ci basta più neanche il regionale il regionale vi posso assicurare che rispetto a quelle che sono le risorse che arrivano e rispetto alle esperienze che abbiamo già fatto in passato voglio ricordare che la fondazione per questi spontini è stata la prima nel 2007 con l'amministrazione Belcecchi e con la firma di Belcecchi, di Aguzzi, di Celani e di Di Ruscio alla regione Marche di Roma alla presenza dell'allora assessore regionale Minardi è stata la prima a favorire un percorso di coproduzione l'avevamo chiamato protocollo dei teatri storici delle Marche quindi avevamo messo insieme Fano, Fermo, Ascoli e Iesi per la produzione lirica così come voglio ricordare che nel 2010 sempre la fondazione aveva aiutato facendosi garante presso il Ministero dei Beni Culturali a Roma nella persona del dottor Nastassi, nella persona del dottor Graziano di una qualità e di una gestione del teatro ventidio basso per l'attività lirica perché loro nel 2009 avevano sbagliato la domanda al Ministero ed erano stati decurtati a zero del loro contributo che era di 110 mila euro no, di 90 mila euro e avendo sbagliato la domanda avevano perso il contributo perdere il contributo vuol dire stoppare l'attività e non ricevere più contributi io ero stato chiamato da esponente della regione Marche per cercare di aiutare il Comune di Ascoli mandai con il Sindaco di Ascoli al Ministero e ottenemmo per quell'anno 20 mila euro in più proprio perché c'era il garante teatro di tradizione Iesi che poteva vantare un'ottima organizzazione e risultati brillanti nel corso degli anni per l'attività di quel teatro e anche lì la storia finì come per il 2007 che il Comune di Ascoli si tirò indietro inopinatamente rispetto agli accordi fatti sottoscritti dalla Giunta con contratti firmati con la perdita per Iesi di denaro che siamo riusciti comunque a tamponare vista la buona gestione che avevamo e soprattutto il periodo di vacche e grasse che c'era nel 2010 abbiamo recuperato i 50 mila euro che abbiamo perso con Ascoli nel 2007 perdiamo 70 mila euro col Comune di Fano perché si ritirò gli ultimi 15 giorni della coproduzione di un'opera allora vi dico questo perché Iesi sicuramente rispetto all'attività che fa ha bisogno di guardare al di fuori dei confini cittadini e al di fuori dei confini regionali perché noi siamo teatro di tradizione riceviamo 730 mila euro dal Ministero per l'attività di produzione lirica e di Festival nelle Marche ci sono altri quattro soggetti che sono come noi riconosciuti dal Ministero e che ricevono denari in misura sicuramente maggiore rispetto ad altri e sono i Rossini Opera Festival che godono di una legge nazionale e la ICO form che è appunto ICO e riceve denaro sia dal Ministero che è dalla Regione per la sua sola attività di sinfonica poi c'è l'Arena Sferisterio che riceve l'attività come teatro di tradizione anche se fa una stagione estiva ed è più un festival 920 mila euro 600 mila euro la forma e un milione e cento Rossini Opera Festival sto parlando del FUS e poi ci siamo noi gli altri soggetti sul territorio cioè Fano Ascoli Fermo e Ancona ricevono partendo dal sud 50 mila 50 mila Fermo 50 mila Ascoli 20 mila Fano ho saltato al nord e 95 mila Ancona con soggetti appunto che ricevono queste limitate risorse è difficile fare un ragionamento programmatico così come lo dobbiamo fare noi che siamo un teatro di tradizione riceviamo certissimamente il contributo in quanto siamo incasellati nel ministero come teatro di tradizione per cui torno all'argomento di cui stiamo parlando è assolutamente necessario per noi colloquiare con soggetti che fanno la nostra stessa attività nel periodo in cui la facciamo noi ma che sono al di fuori della regione perché un'altra cosa da sapere da tenere conto è che l'attività di Pesaro e di Macerata due associazioni cioè un'associazione e una fondazione che esplodono la loro attività in tre mesi da giugno ad agosto un soggetto da luglio a fine agosto l'altro e poi durante tutto il resto dell'anno gestiscono il necessario di fatture e di organizzazione per l'anno dopo mentre noi abbiamo sempre inteso cercare di collaborare con soggetti come noi e voglio ricordare che i soggetti teatri di tradizione in Italia sono 29 simili a noi con cui è più facile colloquiare perché ricevono più o meno e possiamo ragionare con loro più o meno sull'idea dello stesso budget quindi quando ragioniamo con un teatro di tradizione di solito noi ragioniamo su un budget da 100.000 euro a recita fra gli 80 e i 100.000 quindi è assolutamente necessaria l'attività che abbiamo fatto durante tutti questi anni cercando di coprodurre con soggetti che sono come noi teatri e tradizioni in molti casi sono più potenti di noi economicamente parlando perché come dicevo prima la città di Iesi se la mettete in lista e contate dalla prima che è Catania la più grande alla penultima che è Macerata con 42.000 abitanti abbiamo in Macerata può contare su un'arena ripeto di 2.500 posti per cui quando azzecca il cartellone non sempre l'ha fatto l'anno scorso per esempio è andata bene riescono a introitare anche un milione e cento quando noi a Iesi con i prezzi che abbiamo sempre applicato per aiutare i cittadini a sopportare la crisi da una parte dall'altra perché si è sempre fatto un'attività socialmente utile noi abbiamo un massimo di 60 euro a poltrona e via via tutte le altre attività costano molto meno mentre Macerata e Pesaro una poltrona costa 180 euro in un caso 160 in un altro se noi applicassimo quei prezzi probabilmente avremmo molti meno spettatori e comunque il bilancio in entrata per lo sbigliettamento della nostra attività di prosa quindi quella che veramente finisce nelle nostre casse è veramente limitata è una percentuale molto bassa rispetto al bilancio che noi gestiamo quindi di qui la necessità ripeto di andare a interloquire con i circuiti nazionali i più importanti sono il circuito lombardo che ha sei teatri di tradizione il circuito l'Emilia Romagna che ne ha tre tanti il circuito toscano che ha tre teatri di tradizione e il circuito veneto che ne ha lo stesso tre con questi circuiti è ripeto molto facile operare ed è anzi io essendo nel nel comitato di presidenza nazionale dell'ATTIT che è l'associazione che riunisce i teatri di tradizione ho chiesto di istituire ed è la prima volta che succede anche in virtù del decreto Franceschini che ci ha stravolto la metodica organizzativa e qui entro un po' nel futuro della fondazione obbligandoci a fare una progettazione triennale quindi il 3 novembre a Reggio Emilia ci raduniamo tutti i teatri di tradizione e le direzioni artistiche per cercare di condividere le attività di programmazione di produzione per il prossimo triennio le attività che succedono che si svolgono all'interno del teatro pergolesi di cui noi abbiamo la responsabilità di sicurezza e la responsabilità di dare un teatro come si dice in gergo marciante sono attività che ospitiamo e che ci costano soltanto ma le realtà che con noi organizzano queste attività parlo dell'amata per il passato o del teatro stabile per il futuro o della form o del teatro pirata sono attività che vedono un esborso da parte nostra un contributo come sempre stato a tutte queste associazioni o a queste fondazioni e lo sbigliettamento che viene da loro preso perché hanno bisogno anche loro essendo realtà finanziate dal dal ministero di poter certificare la loro attività per cui per Iesi è un'attività di spesa ma è un'attività di spesa che è necessario farla perché se no non avremmo il ricco cartellone che abbiamo tutti gli anni con dai 10 l'anno scorso 10 quest'anno un po' di più ma avevamo anche 15-16 manifestazioni nei nostri teatri durante tutto l'anno sono domande io adesso non so se devo raccontare qualcos'altro se ci sono domande che potete fare ho visto che i 15 minuti sono passate sono un po' d'acqua grazie amministratore delegato Graziosi adesso essendo un'audizione potete anche fare delle domande chiedere dei chiarimenti fare delle riflessioni su quanto è stato oggetto di relazione consigliere Punzo a facoltà molto semplicemente grazie se ci dà qualche delicitazione sui rapporti tra la sua fondazione la fondazione che lei gestisce e il form sì allora la form è una fondazione assestante è una fondazione che ha dipendenti per otto mesi all'anno è una fondazione che riceve fondi per l'attività primaria così come noi li riceviamo per la stagione lirica e per il festival loro ricevono fondi per la stagione sinfonica quindi il loro core business è la stagione sinfonica i contratti dei 31 dipendenti sono 31 sono contratti di otto mesi all'anno se devo ragionare da amministratore delegato sono un interpares sicuramente sono un soggetto sul mercato probabilmente più vicino ma nelle marche ci sono anche altre orchestre con cui ragionare ma in termini di mercato per capire se la loro richiesta economica coincide con la nostra possibilità economica non abbiamo vincoli contrattuali non abbiamo vincoli né morali né contrattuali perché comunque ovviamente siamo tutti sul mercato dello spettacolo dal vivo e tutti quanti cerchiamo di andare avanti di sopravvivere sicuramente l'attività della fondazione per quelli si spontini è un'attività più ampia dell'orchestra perché se devo rimanere in termini semplici insomma è il mio costume pensare lo sapete alla fondazione come un'azienda per noi è un terzista è un terzista che ci offre una prestazione di servizi nella fattispecie suona in buca così come una prestazione di servizi e quindi è un terzista il coro ma lo sono anche gli artisti lo sono i tecnici lo sono il regista il direttore d'orchestra le sarte le parrucchiere e quant'altro il rapporto è storico sicuramente noi abbiamo cercato di favorire la form sempre abbiamo portato fuori la form in alcuni anni in cui siamo riusciti a far passare l'idea che il pacchetto fondazione per questi spontini era conveniente su alcune opere abbiamo portato la form anche fuori e quindi è tutto qua è un rapporto è un rapporto di lavoro un rapporto di mercato consigliere Catani a facoltà la stagione lirica che è l'attività più nota poi della fondazione siete in collaborazione con altri teatri che prospettive per capire un po' le prospettive della stagione lirica che poi è un po' fiore all'occhiello direi della fondazione sì mi ripeto probabilmente in parte però l'attività della stagione lirica storicamente voglio anche citare un dato storico io frequento il teatro pergolesi sono iesino da quando avevo 12 anni per cui mi ricordo molto bene i calendari del passato che cosa è successo iesi aveva la forza in virtù di denari in più probabilmente di potere politico in più io mi chiedo ogni tanto perché insomma sono iesino quindi non sfuggo alla logica del pensiero e di capire perché le cose vanno in una certa maniera comunque eravamo sufficienti a noi stessi quindi iesi riusciva a soddisfare il bisogno economico per la stagione lirica e a fare i tre titoli non dovendo ricorrere a terzi ci sono stati anni in cui siamo riusciti a fare questo sicuramente non è più possibile oggi non è più possibile per crisi non è più possibile per motivi anche se vogliamo di visibilità nella nella competizione globale che c'è il mettere in scena una stagione lirica iesi se non è fatta in coproduzione non riusciamo a riverberare l'idea che noi siamo con cordate di altri teatri e durante gli anni durante gli anni scorsi noi abbiamo fatto coproduzioni con tantissimi teatri due opere di quest'anno sono in coproduzione una con otto teatri e una con cinque noi godiamo di quello che è da una parte la spartizione dei costi su un'opera in otto su un'opera in cinque ma anche dei benefici rispetto alla stampa che ogni volta e io sono probabilmente più attento perché ho la rassegna stampa che mi arriva in continuazione ogni volta che un'opera di quelle che abbiamo fatto in coproduzione gira in altri teatri viene sempre scritto in coproduzione con quello quello e quello e ci siamo sempre gli esi citata e quindi siamo in un percorso nazionale in altri percorsi addirittura siamo in percorsi internazionali perché ve lo dicevo la vocazione della fondazione Pergoli Sispontini è una vocazione internazionale noi abbiamo fatto coproduzioni quest'anno per i racconti di Hoffman con sette teatri francesi e l'anno prossimo il Don Pasquale sarà lo stesso con sette teatri francesi in coproduzione questo ovviamente ci permette di avere la possibilità di ripartire le spese fra tutti ma anche di darci una grande visibilità grazie consigliere Marasca la facoltà grazie presidente ma io ho alcune domande che dopo il primo incontro in commissione con l'amministratore ho potuto in qualche maniera su cui ho potuto riflettere dopo l'esposizione che l'azione che l'amministratore ha fatto in commissione ma io ho pensato anche guardando il materiale che ci è arrivato se fosse possibile approfondire alcune questioni cioè avere una risposta perlomeno in questa sede da parte dell'amministratore la prima è questa cioè quale produzione specificatamente viene fatta nei teatri della Vallesina e nel territorio che comunque fa riferimento a questa fondazione questa è la prima la seconda domanda è se il bilancio della fondazione nel tempo in particolare negli ultimi anni noi abbiamo avuto un rendiconto del 2013 però mi piacerebbe sapere se anche nel 2012 2011 se il bilancio della fondazione ha registrato nella sua parte economica delle perdite ed eventualmente se queste perdite sono state ripianate e da chi inoltre volevo capire se vista questa progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e da parte degli altri antipubblici preposti come la fondazione pensava nei prossimi anni quale prospettiva di rilancio poteva essere in qualche maniera messa in campo e questo ce lo può dire ovviamente chi conosce bene la fondazione come lei potevano essere messi in campo per un rilancio o comunque per una ricerca sul mercato di quei finanziamenti o di quelle risorse che in qualche maniera possono essere utili per rilanciare l'offerta culturale della fondazione e del nostro territorio la terza domanda è questa quale prospettiva invece abbiamo di razionalizzazione della spesa corrente della fondazione o meglio è possibile sapere ad esempio quanto spendiamo in spese quali io per esempio guardo a livello nazionale dove si incide prevalentemente sui tetti di spesa per quanto riguarda i manager oppure le spese di rappresentanza cioè quelle voci che non toccano il personale ma che comunque riguardano quella che è un po' diciamo la parte flessibile quella che appunto su cui si può incidere senza andare a toccare gli interessi del lavoro e le persone quindi ecco come se è possibile quanto è possibile cioè cercare oltre i numeri di capire poi una politica una ridistribuzione delle risorse e come sono ridistribuite all'interno della fondazione perché dai semplici numeri questo non è possibile capirlo inoltre quali benefici quali risultati più che benefici ha comportato la recente operazione che è stata oggetto sicuramente di confronto anche con l'amministrazione comunale di garantire più spettacoli a chi viene a chi nel passato abbiamo utilizzato diciamo l'orchestra e la form quali risultati concreti cioè quali benefici anche tipo economico ha comportato poterci affidare a un'orchestra lombarda piuttosto che perché c'era stato speso questa cosa come una possibilità di un beneficio economico per la fondazione eccetera cioè capire se c'è stato effettivamente e se questo visto che è andata in scena la prima rappresentazione quali sono stati diciamo da questo punto di vista i benefici la quinta è visto che la fondazione si sta aprendo anche a una fase di internazionalizzazione quindi di rapporti anche con teatri che sono fuori dal paese anche fuori dalla comunità europea capire questa operazione se è un'operazione onerosa per il comune o se è un'operazione a costo zero che prospettive ci sono e che opportunità abbiamo noi come teatro come fondazione per Golesi Spontini e soprattutto qual è il personale impiegato in questa operazione cioè è un'operazione diciamo di rappresentanza oppure vengono proprio impiegate le nostre risorse interne vengono valorizzate magari si fa anche attività fuori per garantire anche quello che diceva lei cioè una fondazione aperta a tutto l'anno e che dà lavoro vero nel senso che non lo dà soltanto in alcuni momenti dell'anno ma lo dà comunque in maniera continuativa assicurando una ricchezza anche dal punto di vista occupazionale l'ultima domanda è questa cioè quali perché francamente ancora questo è difficile capirlo perché scegliere un accordo con Ancona e tenersi fuori da quella che è stata invece l'iniziativa a carattere regionale a cui hanno aderito praticamente tutti i teatri di tradizione ma anche non di tradizione della regione questo lo dico perché lei diceva non basta più neanche il livello regionale ma se noi non partecipiamo neanche più a livello regionale e scegliamo un accordo con Ancona io mi domando a questo punto perché e perché la scelta di non aderire a un'iniziativa di più ampio respiro come quella regionale visto che poi quando si andranno ad attribuire le risorse ovviamente anche in base alle ultime novità legislative è normale che il governo potrebbe preferire una aggregazione più pesante rispetto invece c'è un accordo che è semiprovinciale perché parliamo di due grandi realtà ma che sostanzialmente si trova in un ambito territoriale molto ristretto e che hanno comunque anche se hanno una buona possono garantire una buona offerta culturale a un buon pubblico ma comunque diciamo che un'aggregazione di quel tipo è competitiva rispetto alla nostra quindi ecco capire su questi aspetti se è possibile appunto fare un focus su questi singoli elementi grazie consigliere Marasca è pronto? sì se si prenota ecco allora rispondo cerco di mi sono notato le domande cerco di rispondere via via a tutte quante quale produzione lei mi ha chiesto quale produzione la prima l'esempio è la prima produzione si è ho visto volantini e si è detto che noi abbiamo portato i soldi Lombardia in realtà la Lombardia ha pagato noi perché abbiamo costruito noi infatti una cosa che non ho ricordato è che noi abbiamo dei lavoratori dove costruiamo per conto terzi e soprattutto in coproduzione costruiamo le scene tutto il progetto per Golesi e quando intendo tutto è tutto dall'essere editori alle scene e ai costumi li abbiamo costruiti noi perché abbiamo una capacità aziendale di partire dalla A e arrivare alla Z e di dare il prodotto di produzione finito quindi la produzione già dalla prima è un esempio di coproduzione vero la Lombardia ha pagato i nostri lavoratori che nei tre mesi estivi hanno costruito le scene dell'opera della prima opera che abbiamo coprodotto è un esempio lampante chiarissimo di come lavorando e in questo caso in questa opera siamo otto teatri insieme ci sia modo di andare a discutere ripartendo le spese in otto e il beneficio che ha avuto Iesi perché questa è stata la mia richiesta andando a collaborare con il circuito Lombardo e con gli altri teatri che hanno ospitato Reggio Emilia e altri questa produzione è stata quella di poter io costruire le scene quindi io intendo la fondazione che sono state costruite nei nostri laboratori e quindi in quei laboratori hanno lavorato personale marchigiano formato nelle accademie di belle arti marchigiane e anche di giovani che noi abbiamo formato nel 2010 con il progetto Sipario i soldi della comunità europea che abbiamo ottenuto e voglio ricordare che siamo anche l'unico soggetto regionale non lo sono nessuno degli altri ad essere nel nostro settore ad essere agenzia formativa regionale quindi questa credo di aver risposto e poi ovviamente ci sono tutte le altre cose che succedono Tosca è una nostra produzione che già facemmo in coproduzione e lì la facemmo all'epoca con il direttore artistico di Macerata che era Pierluigi Pizzi quando tanto per dirle della flessibilità che poi torna utile sapere con che flessibilità riusciamo a lavorare noi per rispondere ad altre domande quando io commissionai la Tosca ad un regista venuto a sapere che a Macerata Pizzi aveva deciso anche lui di fare una Tosca nella stagione del Macerata Opera Festival io chiesi all'artista che avevo collocato di farsi da parte avrei ricompensato quell'artista in altra maniera ma entrai in coproduzione con Macerata e convinsi i miei colleghi del circuito Lombardo e del circuito Veneto di entrare in coproduzione e abbiamo fatto arrivare a Macerata Opera denari quell'anno 70 fra i 70 80 mila euro per sostenere la coproduzione e soprattutto i costi che Macerata sosteneva quell'anno voglio ricordare che nelle casse di Macerata e ci sono i bonifici bancari la fondazione Pergoli Sispontini in virtù di quella coproduzione di altri del rigoletto che abbiamo fatto ha girato 240 mila euro di denaro che noi abbiamo recuperato con la nostra attività di teatro di tradizione e di attività dell'irica di produzione invernale convincendo i colleghi a cooperare con Macerata che se no sarebbe una realtà distinguibile soltanto per un periodo dell'anno e soprattutto con un palcoscenico di quelle dimensioni assolutamente non adatto per lavorare con i teatri al chiuso perdite le perdite cosa vuol dire beh la cultura si fa con i denari non è vero che non ci si mangia ma ci si mangia e tutte le persone che ci lavorano vogliono essere pagate quindi se i comuni mettono denaro per le produzioni non riusciamo a fare produzione i teatri piccoli si i teatri piccoli le intendi i teatri piccoli i teatri piccoli non hanno esigenza di produzione non ci hanno mai chiesto di fare produzione ma noi abbiamo noi abbiamo sempre portato proprio nell'ottica di una collaborazione sul territorio e ricordo anche che fu il presidente della provincia Giancarli a chiedere questo noi abbiamo fatto tutti gli anni con un dispendio tutti gli anni con un dispendio sicuramente per la fondazione perché fare le cose soltanto al Pergolisi e al Moriconi sarebbe meno costoso abbiamo portato appuntamenti di ogni festival e basta che va nel sito della fondazione e vede le edizioni precedenti le 13 edizioni precedenti del festival e vedrà che noi abbiamo toccato proprio su indicazione della provincia tutti i teatri della provincia da Fabriano a Senigallia con tutto quello che c'è in mezzo perdite la flessibilità di cui le parlavo ci ha sempre fatto ragionare in maniera molto schietta molto diretta noi abbiamo cancellato nel 2010 l'anno delle celebrazioni quando il governo Berlusconi decise di non finanziare i comitati nazionali e ne finanziò soltanto uno il benzo Conte di Cavour non finanziò seppur approvato dal Senato e dal Parlamento il comitato nazionale per Golesiano che all'epoca era presiduto da Gianni Letta io decisi in qualità di amministratore legato era la mia responsabilità di chiamare personalmente 200 artisti che da lì e questo successo a luglio il ministro Bondi cancellò tutti i comitati nazionali io decisi di chiamare 200 persone 200 artisti che sarebbero venuti a settembre nell'anno delle celebrazioni e cancellai il festival del settembre 2010 andando a ridiscutere con tutti gli interlocutori nazionali che avevano aderito al progetto quando sarebbero arrivati i soldi e riposizionare il festival in un altro periodo avendo la certezza dei finanziamenti per cui la fondazione cosa c'è in portafoglio? Si fa non ha mai fatto perdite soltanto il primo anno nel passaggio comune comune fondazione della gestione ci venne detto quanto avevamo a disposizione a novembre ottobre con la stagione in essere e ovviamente si fece il primo anno un buco di bilancio però d'accordo con l'amministrazione Belcecchi e l'assessore Leonardo Animali di di approvare un bilancio in perdita che sarebbe stato ripianato con l'attività degli anni successivi cosa che abbiamo fatto rientrando di quella perdita le perdite non ci sono il nostro bilancio è assolutamente sano e non ci sono euro nascosti o perdite nascoste risorse le risorse sono quelle possibili in in questo territorio l'ho detto prima e quando parlo cerco di essere abbastanza logico e di far capire quali sono le intenzioni e quali sono le azioni questo territorio può esprimere la capacità di raccolta dalle tasse per i 40.000 abitanti che abbiamo è un territorio che ha sì due banche all'interno ma non sono più del territorio ha sì un tessuto industriale molto importante e sia la Peralisi Group che la Fiat con la Fiat Trattori sono con noi avendo illustrato qual era il progetto dal 2001 e ci stanno vicini ma molte altre società non sono entrate stanno alcune che sono dentro la compaggia della fondazione stanno così come Banca Marche Banca Marche quest'anno ci ha tagliato del 50% il contributo Uvi Banca sta mantenendo il contributo per la prosa ma non ha mai voluto intervenire per l'attività musicale la cassa di risparmio di Iesi non ci dà più niente da un paio di anni con delle contribuzioni che sicuramente non erano adeguate per quello che è il teatro cittadino che fa l'attività che facciamo su 12 mesi all'anno quindi le risorse possibili voglio ricordare anche che la provincia di Ancona che era un socio fondatore che ci dava 110.000 euro quando fu chiusa noi perdiamo anche 110.000 euro della provincia quindi quali sono le risorse io me lo chiedo forse lo chiedo più a lei che è un amministratore o a lui però insomma a questo consesso perché anche io sto cercando di capire quali saranno le risorse future il ministro Franceschini con questa azione che è un'azione molto dura ha posto l'asticella molto in alto ti dice che ti dà i soldi per tre anni però devi stargli dietro io ti do i soldi per tre anni ma tu devi partecipare devi dimostrarmi che continui a fare l'attività che io ti richiedo per legge se saremo capaci potremo andare avanti razionalizzazioni sì sono possibili e certo si possono provare a vedere quali sono le persone in più qual è il il costo che si può abbattere io per esempio quest'anno ho deciso di togliermi una mensilità quindi il mio lordo è di 10.000 euro inferiori rispetto all'anno scorso l'ho già fatto l'anno scorso che per sei mesi ho preso il 25% in meno del mio stipendio per quello che riguarda me e non ho mai voluto nella mia posizione nelle marche sono tutti dipendenti delle fondazioni mi sono tolto una mensilità sì no 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 10.000 euro vuole sapere quanto prendo 44.000 euro all'anno il lordo no beh è chiaro però se lei conta il lordo il netto sto parlando del lordo mi sono tolto una mensilità che poi diventa un lordo per la fondazione ovviamente e se lei va a vedere le volevo dire che siccome il mio per legge è pubblicato rispetto all'anno scorso sono 10.000 euro in meno per quello che riguarda la razionalizzazione la possiamo fare possiamo ridurre il raggio di azione della fondazione possiamo sicuramente licenziare delle persone noi abbiamo con le razionalizzazioni possibili abbiamo soppresso degli uffici assolutamente necessari non abbiamo più l'ufficio formazione non abbiamo più l'ufficio progetti europei proprio perché abbiamo mandato a casa delle persone che lavoravano con noi e abbiamo contratti l'ho fatto pubblicare nell'ultimo organigramma lo vedrete vedrete quanti sono i dipendenti quanti sono i contratti professionali partita IVA e quanti sono quelli diversi insomma quali sono i contratti diversi tutti i contratti che si possono per quello che riguarda i non dipendenti guardi adesso mi fa una domanda entrare in specifico se vuole poi le saprò dire posso essere più preciso comunque per quello che riguarda siccome dirigo io la fondazione quindi la mia la mia mentalità io non ho mai rispetto ai miei colleghi delle marche che dirigono le altre fondazioni sono tutti dipendenti io sono un co-corporo manager finché la legge lo potrà permettere e voglio essere valutato anno per anno se non funziona vado via sono il primo ad andare via quindi razionalizzazioni assolutamente sì possibili quindi ragioniamo su che cosa vogliamo fare che cosa vuole essere la fondazione la fondazione è stata voluta dalla politica la politica la può anche chiudere le spese facciamo finire però graziosi perché se no diventa però a lei ha posto sei domande vabbè sei domande che vogliono meritano alla risposta se no diventano risposte insufficienti e allora spese di rappresentanza che cosa intende lei mi specifici che cosa vuole sì non ci sono ci sono le spese che io sostengo andando in giro tra l'altro con la mia macchina perché non è macchina aziendale e faccio rimborso a non mi ricordo a tariffa a tariffa ACI esatto e quindi non ci sono spese di rappresentanza ci sono ci possono essere delle spese quando fai delle coproduzioni ma non è capitato perché io avendo l'altro incarico spesso e volentieri viaggio pagandomi con l'altro incarico le assicuro che sono molto attento alla fondazione ci tengo moltissimo esatto lo vedo io le rispondo attentamente benefici mi sono segnato benefici ma non ricordo la domanda allora le dico che sicuramente i benefici che abbiamo ottenuto sono i benefici di non stare in una situazione non chiara le ho raccontato prima e l'ho fatto volutamente i fatti che sono successi nel 2007 nel 2010 in cui noi comune di Iesi senza un appoggio politico adeguato avevamo creato un percorso marchigiano con l'associazione dei quattro teatri e siamo stati penalizzati perché si è sottratto un coproduttore in quell'occasione Fano di 70.000 euro e il comune di Ascoli che si è ritirato sulla base di accordi presi con l'amministrazione per la prima opera fatta e la prima opera fu traviata che noi demmo gratuitamente come allestimento quindi con un grande guadagno per Ascoli la seconda opera che doveva essere proprio la Tosca di nostra proprietà che mettiamo in scena adesso ci venne detto per ragioni interne e per ragioni campanellistiche che sono quelle che più di una volta purtroppo penalizzano questo paese che non riesce a guardare un attimo fuori dai propri confini che non avremmo fatto quella Tosca e in quell'occasione anche perdiamo 50.000 euro allora il percorso siccome sono un membro del consiglio di amministrazione del consorzio Marche Spettacolo un consorzio che è stato creato per cercare di razionalizzare di mettere insieme i soggetti su ambiti diversi ha fatto una proposta di mettersi insieme la proposta di mettersi insieme io la storia la mia storia personale dimostra che non è soltanto un fatto a parole ma ho sempre fatto sinergia perché credo che l'unione faccia la forza abbiamo io ho anche palesato dopo di voi viene il direttore del consorzio a trovarmi in ufficio perché continuerò a palesare alcuni dubbi non c'è mai stata non c'è mai stata e se guardate il protocollo non c'è mai stato un ragionamento sui denari non si sa con quanti denari verrà fatta questa produzione siccome la produzione lirica è materia lavorativa ed è un materia certa non è che sia l'artistico può essere campato per aria però poi gli stipendi vanno dati vanno pagate le cose come le dicevo prima noi ragioniamo noi teatro tradizione intendo a 100.000 euro a recita quando io ho posto la domanda in consorzio Marche Spettacolo ma dove vogliamo posizionare l'asticella economica per ragionare insieme per capirci per intenderci perché uno non diventi il bancomat dell'altro e che non debba l'altro pagare per un teatro che poi non ce la fa non c'è stata risposta così come non ci ha risposto la regione Marche e ancora io devo vedere che cosa qual è il risultato anzi no una risposta io la ebbi dal dal dottor Salvi a mia domanda precisa visto che si spingeva molto verso questa unione quali sono i soldi che la regione Marche avrebbe messo in disposizione in più ovviamente rispetto alle necessità che era di mettersi insieme perché fino ad oggi abbiamo agito spontaneamente è stato risposto non ci sono altre risorse dovete fare con quello che avete allora se io devo ragionare proprio quest'anno per il futuro in un progetto triennale quindi tutti devono essere capaci di andare a dire con certezza per entrare nella legge nazionale del FUS io nei prossimi tre anni e il teatro di tradizione ha come obbligo tre opere otto recite quindi noi dovremo presentare il 31 gennaio un progetto di 24 recite su nove titoli chi può essere in grado nelle Marche di fare un ragionamento simile noi prendiamo le ripeto 600.000 euro per la lirica per comuni che prendono 50.000 e 20.000 come possono essere in grado di andare a produrre un progetto per il prossimo triennio quindi garantire per la lirica ordinaria due titoli a teatro quattro recite a queste domande non c'è mai stata risposta e se vuole sapere un iter e mi pare che oggi l'assessore Marasca di Ancona ha specificato questo quando sono state poste delle domande logiche rispetto al protocollo sottopostoci non c'è stata data risposta della conferenza stampa perché di quello stiamo parlando che si è svolta in Ancona non c'è stata data convocazione non siamo stati assolutamente chiamati e io ho avuto modo anche di parlare con il mio collega Gianfranco Mariotti che conosco da 20 anni che ha aderito a questo protocollo siccome lo conosco bene e conosco il suo pensiero e lui non ha mai lavorato con le Marche ha collaborato con noi e con l'Accademia Rossiniana anche in virtù di una direzione artistica molto amichevole e molto vicina a Mariotti e di un pesarese abbiamo fatto con l'Accademia Rossini il barbiere di Siviglia e il viaggio a Reims quali erano i motivi? sono curioso di capire e di vedere il protocollo che è stato che è stato sottoscritto perché mi è stato detto che ci sono delle modifiche che a noi non sono state dette comunque sarà interessante nei prossimi giorni di cosa? di? di cosa? i benefici di cosa? guardate perdonatemi io faccio fatica però delle volte a parlare se non ci intendiamo cioè io conosco bene il mio lavoro e conosco bene che cosa intendete per coproduzione quali sono i benefici che cosa intendete perché è materia complessa quando ti metti insieme a dei teatri e parli di una coproduzione che riguardano orchestra coro produzione artisti allora guardi guardi ho già spiegato Marasca ho già spiegato questo se noi siamo in coproduzione con otto teatri e le prove dell'orchestra le pagano otto teatri non credo che sia difficile capire che pagare l'ottava parte di una somma è meglio che pagare l'intera somma le prove dell'orchestra lombarda signora le prove dell'orchestra lombarda è stata sono state fatte a a como e sono state fatte intanto in misura adeguata negli ultimi anni per questo le dicevo che bisognerebbe capire bene perché c'è una parte artistica e una parte economica negli ultimi anni con la form siamo arrivati a fare una contrattazione sul denaro a disposizione cioè veniva il direttore artistico della form e mi diceva quanto hai quest'anno facciamo le ipotesi centomila per centomila vengo due prove quell'opera due prove quella e una e mezza questa perché il nostro costo sindacale è questo per cui se tu hai questo e non c'era modo di trattare se tu hai questo io vengo per questi giorni una delle ragioni di maggior arrabbiatura del direttore artistico Gianni Tangucci l'anno scorso è stato che io ho potuto dare un budget per l'orchestra di un certo tipo il risultato è stato che l'orchestra form è venuta da me con un numero di prove assolutamente inadeguato per questo Don Giovanni noi abbiamo fatto tre assiemi tre letture e due generali un antigenerale e un generale per voi forse non vuol dire niente ma per me vuol dire cinque ore otto ore due giorni cinque ore tre giorni anzi cinque ore tre giorni e poi l'intera opera per due volte se io dovesse ributtare questo costo sul costo sindacale della forma viene fuori una somma insopportabile cioè non pagabile per la fondazione per questi spontini con l'attuale bilancio ripartita questa somma in otto e io spero che nel futuro ci possa essere un ragionamento questo sia auspicato e più di una volta in tutte le riunioni che ho fatto con la regione Marche visto l'esempio della regione Lombardia dove la regione Lombardia per chi partecipa a quel circuito l'orchestra costa esattamente la metà del prezzo sindacale che la regione Marche intervenga con del denaro da dare in più non lo chiedo per me che lo dia di più alla fondazione alla forma per costare la metà come costa in Lombardia Allora vi prego di mantenervi nei limiti possibili in sede degli interventi che sono cinque minuti senza fare troppe domande all'amministratore delegato se no ovviamente andiamo fuori con il tempo diventa estremamente impegnativo Allora consigliere Magagnini la facoltà ecco la mia domanda molto curiosità che in parte mi è sembrato di recepire dall'intervento del dottor Graziosi il costo di una di un'opera diciamo l'esempio del santo Don Giovanni rapportato a quello che è il botteghino perché la preoccupazione un po' di tutti è quella che prima o poi in Italia non ci possiamo più permettere questo tipo e la cultura sbagliando nettamente la cultura affiorino le frasi con la cultura non si mangia un rapporto che mi sembra che siamo a rapporti molto percentuali molto molto basse quindi indicativamente naturalmente tenendo conto di questa collaborazione con altri teatri che evidentemente da quello che lei dice che posso intuire è obbligatoria ecco grazie consigliere Magagnini Graziosi bisogna ricorrere alla storia l'opera lirica è stata inventata voluta dai re dagli imperatori e quindi le opere liriche nel corso degli anni e poi soprattutto in un periodo dove il teatro era il tutto del divago e del tempo libero nelle città ovviamente tutti i denari tutte le risorse venivano destinate a questo tipo di cultura di spettacolo dal vivo per cui è per definizione l'opera lirica lo spettacolo dal vivo più costoso che c'è ovviamente non si riesce a neanche minimamente avvicinare al costo di una rappresentazione con l'introito del pubblico perché sennò dovresti portare i prezzi dei biglietti a delle somme improponibili e non si riesce da nessuna parte non è che non ci riusciamo noi non ci riesce neanche la scala che poi deve porre l'asticella della qualità talmente in alto per cui le produzioni della scala sono se vi dico le somme delle produzioni della scala sono l'Aida che io adesso ho comperato per il Kazakistan che andò in scena la prima volta nel 2006 alla scala fu l'apertura della scala alla scala all'epoca costò 2 milioni e 400 mila euro soltanto le scene e i costumi quindi stiamo parlando di somme improponibili è chiaro che lì c'è in ballo la supremazia il primeggiare della scala piuttosto che altri teatri Zeffirelli volle la vera foglia d'oro nell'oro che era rappresentato nella scenografia noi non siamo a quei livelli non proprio per niente però i prezzi come dicevo i prezzi sono da 60 a 12 euro il loggione noi possiamo immaginare in una serata di pieno e grazie a Dio fortunatamente facciamo sempre pieno al massimo 10 10 mila euro se le dico che la recita costa 100 mila insomma capisce che non ci arriviamo proprio per niente volevo rispondere al posso agli altri due punti sì ma brevissimamente allora Kazakistan il Kazakistan è una nazione che è in forte sviluppo la relazione con il Kazakistan da parte mia è iniziata otto anni fa informai il CDA di questa relazione e se era possibile per me fare questa attività con loro e fino ad oggi comunque rimanendo sui fatti il Kazakistan ha dato alla fondazione in contratti un milione e centoventi mila euro con un guadagno netto di mezzo milione ho fatto il conto io praticamente mi sono pagato lo stipendio per buona parte degli anni con questa attività che ho portato in casa perché ho voluto fare chiaramente della fondazione per Goli Sispontini di questo teatro il punto di snodo per l'Europa verso il Kazakistan per cui tornando anche alla domanda che faceva Marasca rispetto alle professionalità interne molte delle professionalità che sono con noi sono venuti a lavorare in Kazakistan e hanno permesso l'allestimento per esempio della traviata degli specchi che abbiamo fatto l'anno scorso con un agio economico per la fondazione veramente importante abbiamo stipulato un ottimo contratto economicamente parlando che ci aiuterà di molto per il bilancio di quest'anno quindi benvengano tanti Kazakistan e tante altre nazioni che vogliono collaborare con noi d'altronde la cultura è veramente vi posso assicurare molto ambita e molto voluta nel resto del mondo molto più di quello che riusciamo a percepire noi e a valorizzare la nostra storia e la nostra cultura la relazione con Ancona la relazione con Ancona andava corretta immediatamente non c'è stata un'azione politica è una mia opinione ma io la ho espressi già a suo tempo come vi dico che io incontrai Galeazzi e Sturani nel 2000 al momento della stesura della bozza di relazioni territoriali per la fondazione per Goli Sispontini incontrai Sturani e Galeazzi per chiedere anche ad Ancona di entrare come compagine comunale all'interno della fondazione non c'era il teatro finito non lo ritennono possibile all'epoca anche se io cercavo di andare avanti con la mia visione nel futuro nel 2002 quando si aprì le muse Iesi ha perso l'occasione di fare da una parte un'azione politica vera dall'altra probabilmente di alzare la voce rivendicando quello che per legge era il ruolo territoriale del teatro di tradizione perché la legge 800 che è ancora vigente dice che il teatro di tradizione è quel teatro è quell'organismo che coordina dirige organizza l'attività sul proprio territorio della provincia e all'epoca la provincia esisteva quindi quando qualcuno ha fatto una battaglia al ministero per ottenere fondi per una lirica ordinaria ad Ancona senza tener conto di noi doveva invece tener conto di noi e probabilmente Iesi che era ancora a mio modo di vedere io ragiono per la mia testa in una fase calante purtroppo nel suo nel suo porzi nel lagone politico marchigiano non fece la voce grossa quella volta e per molti anni voglio anche dire qui e ricordare che la domanda al ministero è stata firmata e sottoscritto dall'arena sferisterio e non da Iesi questo io l'ho sempre ritenuto l'ho fatto notare al ministero l'ho sempre ritenuto un'invasione territoriale perché viva Dio su questa provincia c'era un teatro di tradizione che doveva per legge colloquiare con Ancona questa è una cosa che ho sempre ritenuto e ne ho parlato con l'amministrazione Belcecchi perché io ho lavorato con l'amministrazione Belcecchi da due anni con Baci al sindaco Belcecchi e credo la giunta più di una persona sa guardo l'amministrazione Olivi perché all'epoca era in fondazione e la lettera per Ancona la congiunzione con Ancona la scrivemmo nel 2011 condividendola con l'assessore Lasca che era membro del CDA e Belcecchi perché sul territorio non puoi avere la competizione di una città di 100.000 abitanti capoluogo di regione che politicamente purtroppo può fare la voce più grossa della nostra quindi se lei mi dice qual è la relazione possibile con Ancona io ci trovo soltanto vantaggi perché trattando con la città più importante e soprattutto sul territorio con l'altra città che ha una denominazione ministeriale quindi un teatro di tradizione così come noi siamo un teatro di produzione scusate stabile così come noi siamo un teatro di tradizione ritengo doveroso che noi lavoriamo insieme perché la prosa sia fatta con loro e la lirica fatta con noi perché fino ad oggi questo non è mai successo ci sono sempre elevati ad una condizione di scala delle marche senza ragionare con noi ma cercando sinergie semmai con altri territori della regione e in primis con Macerata grazie la consigliera Mancia a facoltà prima chiedo scusa ricordo che avevo anche indicato all'amministratore delegato della fondazione che per correttezza in qualche modo rimaneva sempre sospeso il discorso di petizione form su cui è stato interessato l'ufficio di presidenza che allo Stato non viene trattato e non sarà trattato a mio avviso finché non verranno regolarizzate le irregolarità formali peraltro che ci sono nel testo della petizione stessa quindi auspico che non ci saranno anche ulteriori domande esclusivamente su form anche perché la questione form la potremmo trattare a tempo debito anche avendo presenti gli stessi firmatari sottoscrittori credo che sia giusto anche per chi comunque ha presentato quella petizione consigliera Mancia grazie dunque io ho preso un po' di appunti stavo pensando una volta si diceva piccolo e bello e qua allora siamo di fronte alla città più piccola se non ho sbaglio che ha d'Italia che ha un teatro di tradizione però questo teatro di tradizione deve essere per forza grande mi interroga il fatto che ci sia questa da parte sua che gestisce la fondazione questa imponderabilità della scelta cioè per forza di cose la produzione deve essere globalizzata abbiamo visto come stanno andando altre globalizzazioni e per forza bisogna interloquire con i circuiti nazionali quindi bisogna avere questa dimensione nazionale e internazionale effettivamente mi spaventa un po' questa cosa farò la figura della risroga però ve lo devo lo devo dire insomma cioè che cosa che cosa succede se il cartellone è un po' meno ricco e roboante e magari la cultura è un po' più fruibile e diffusa da parte della popolazione ossia io sono un'insegnante combatto da vent'anni l'aziendalizzazione della scuola non mi rassegnerò mai il sapere non può essere ridotto a un mercato l'offerta formativa io ti doto gli alunni sono dei clienti quindi si figuri di fronte alla musica e alla cultura altra se posso non lo posso accettare insomma lei ha un piglio aziendalistico lei parla e poi l'ha anche detto io guardo alla fondazione come ad un'azienda è veramente è il piglio dell'imprenditore del vecchio padrone di impresa e sa il fatto suo sicuramente dunque ammesso che le cose debbano andare così no? e io comunque non mi ci rassegnerò mai io credo che e dico io quindi non coinvolgo appunto sono appunti che ho preso ascoltandola quindi non è il pensiero del Movimento 5 Stelle ma credo che possa essere condiviso penso che ci sia un limite cioè un limite sotto il quale non bisogna andare mai in qualunque situazione il limite è il rispetto per esempio delle persone delle maestranze locali degli operatori che difendono il proprio lavoro mi ha impressionato il fatto che lei a conti sa tutto ma non ha saputo rispondere a quanti sono i dipendenti questo mi impressiona parecchio e comunque allora in questa in questa visione aziendalistica appunto i conti devono portare punto e basta e non solo ma sulla cultura ci si deve fare profitto una cosa che invece che ha detto e un'altra cosa che mi sono segnata è è questa la politica ha voluto la fondazione no? l'ha voluta la politica la fondazione io vorrei aggiungere questa politica che sta qui in quest'aula cioè le va bene questo modo di gestione di gestire la fondazione cioè non sarà il caso che diciamo anche noi quello che pensiamo su come dovrebbe essere la fondazione graziosi lei praticamente credo la domanda sia è solo manager riguarda anche l'aspetto culturale della fondazione che poi in fondo credo che sia quella la domanda nascosta della consigliera Manci allora sicuramente la fondazione e l'ho ripetuto l'ho detto all'inizio è un'azienda culturale per cui si occupa di cultura e intende fare cultura e intende continuare a far vivere il teatro le dicevo che per me è un po' difficile non prendermi cura doverosamente fino in fondo del teatro perché sono iesino e se ho potuto volturare e voltare la mia professione rispetto ad un'attività che facevo di operaio perché io sono stato un operaio sia iesi che con una multinazionale americana ho lavorato in attività professionali nel mondo del teatro e proprio perché dall'età di 12 anni sono entrato in quel palazzo che amo visceralmente che è il teatro pergolesi e che oggi ho la fortuna di poter dirigere ho cercato di connotare questo territorio perché vede signora l'aspetto romantico dell'attività culturale io lo condivido come lei ho studiato canto ero un tenore volevo fare il tenore non ci sono riuscito e ho cominciato a immaginare come potevo lavorare nel mondo del teatro e quindi ho cominciato a elaborare progetti prima per Maiolati e poi questi progetti mi hanno portato e mi hanno coinvolto grazie alla politica sicuramente fino ad immaginare un progetto che era la fondazione per cercare di non far morire il teatro pergolesi allora per quello che riguarda l'aspetto culturale credo che sia assolutamente importantissimo sono la persona che è riuscito a convincere a venire a Iesi il maestro Muti e il maestro Abbado ho proposto la politica politica che ha accettato perché lei ha ragione che bisogna sentire quest'aula ma quest'aula decise nel 2000 di far nascere la fondazione decise nel 2005 qual era il contratto di servizio per la gestione della fondazione da parte della fondazione dei due teatri della città e quindi poi il sindaco della città è sempre stato il presidente della fondazione ovviamente la fondazione non poteva che definirsi e chiamarsi e denominarsi pergolesi spontini perché sono i due soggetti che nel mondo della musica nel mondo dello spettacolo al vivo ci danno una connotazione immediata rispetto alla mappa mondiale tutti quelli che si occupano di lirica e di musica sanno perfettamente chi sono pergolesi e spontini che sono nella storia universale della musica e quindi nel mio intento c'era quello di creare un brand che avesse un immediato appeal così come ce l'ha Pesaro per Rossini come ce l'ha Bergamo per Donizzetti come ce l'ha Ponchielli con Cremona o Bellini con Catania e ovviamente Parma con Verdi di facilissima riconoscibilità mondiale per quello che riguarda la domanda dei dipendenti io lo so perfettamente quanti sono i dipendenti della fondazione ma la domanda di Marasca era che tipologia di contratti e quante persone sono dipendenti sono sei non ricordo quanti sono interinali quanti sono professionali e quanti forse co-pro manager soltanto uno sono io e quindi era questa la definizione perché se no se le dico per nome e probabilmente per data di nascita chi sono dipendenti della fondazione si preoccupi li conosco tutti grazie consigliere Olivi a facoltà ci sono dopo quello di Olivi altri due interventi grazie presidente io approfitto della presenza del dottor Graziosi perché ascoltandolo poi alcuni quesiti mi sono posti e velocemente provo a dirli perché così almeno avrò una risposta faccio una piccolissima premessa io fino a prova contraria ritengo che la fondazione per Golesi Spontini sia e possa ancor più essere un valore aggiunto per questo territorio lo dico pesando le parole perché dico possa e debba essere un valore aggiunto perché non mi dimentico che comunque la fondazione è nei fatti un sistema questo perlomeno lo vedo io dove ci sono opportunità non tante non solo per quella tradizione culturale jesina e oltre ma anche come realtà che produce questa nostra attenzione per temi come la lirica o come la musica di Pergolessi e via scorrendo tramutandola in opportunità per maestranze per professionalità e dà lustro a questo territorio non ci dimentichiamo mai che poi il marketing territoriale è un'opportunità per chi lavora quindi ripeto sistema e al tempo stesso territorio perché supera i confini lo metto come battuta William non è che la realtà della fondazione è 40.000 almeno è 46.000 errotti 40 agli essi e 6.000 passa di maiolati spontini è una battuta ma per dire che la territorialità di questa fondazione supera i confini urbani se non altro arriva a una dimensione più alta allora facendo questo qui e vengo appunto alle domande non nascondo che leggendo i giornali come tutti qualche giorno fa quando ho letto della praticamente della sottoscrizione di questa rete marchigiana sotto legita regionale dei teatri da lezione ordinari e quindi conosco la differenza fra l'essere ordinari e l'essere di tradizione e quindi ho detto beh questo è un distingo dove gli essi non c'è però non mi è sfuggito il fatto che invece teatri di tradizione o di valore penso a macerata e pesaro comunque ci fossero perlomeno l'hanno sottoscritta e sapendo anche la presenza del nostro amministratore delegato nel consorzio Marche Spettacoli la insomma le curiosità o perlomeno le domande che mi sono state poste io stasera mi sembra di averle ascoltate le ripeto a voce alta per capire se ho registrato bene da un lato una serie di quesiti non risposti di ordine economico o gestionale dall'altro un discorso di non essere stati invitati e di una di un protocollo firmato anche da questi soggetti ripeto macerata e pesaro diverso o possibilmente diverso rispetto a una stesura queste sono osservazioni secondo me importanti da fare e almeno a me hanno dato già una risposta e naturalmente su questo dopo c'è il famoso appuntamento con Carlo Pesaresi presumo allora ci sarà la situazione di vedere se questa che comunque rientra in una DNA in un DNA la fondazione cioè fare rete e fare squadra poi ciascuno con le sue peculiarità secondo me è una situazione che si può recuperare punto di domanda che ci potrà penalizzare altro punto di domanda perché ad oggi sembrerebbe di no dalle riflessioni che facevi però in prospettiva è un quesito in virtù della legge Franceschini e dell'asticella sempre più alta che dovremmo fare perché forse andando a trovare tutte le opportunità si riesce a raggiungere questa sticella per non privare questo territorio di quel sistema che la fondazione rappresenta e quindi ripeto mi è sembrata che la puntuale risposta comunque abbia lasciato a meno a me dei margini che mi piacerebbe approfondire e naturalmente sono convinto che le questioni saranno dirette come sempre è stato diretto il rapporto l'altra questione invece che faccio è sul territorio non mi sono spiegato c'era un'altra e poi termino un'altra invece che a me dalle parole che ho ascoltato arrivava pensando alla mission della fondazione arrivo appunto è l'altro termine che usato quello del territorio per carità la internazionalizzazione della fondazione soprattutto grazie a Pergolesi e Spontini è uno dei punti cardine della mission della fondazione e se ci sono collaborazioni fra teatri oltre confine ci mancherebbe mi fermo? no scusa mi fermo mi devo fermare? allora però una mission era quella che la fondazione dovesse avere un'attenzione ai teatri minori ai teatri minori della Vallesina era la nostra mission tant'è che lo ricordavi con il discorso della provincia che oggi non c'è più allora è vero che nei teatri minori attualmente c'è il festival Pergolesi il festival Spontini che è un festival importante di carattere internazionale ma diciamo di nicchia o per lo meno per persone acculturate su questo genere musicale allora torno a ripetere per le questioni di bilancio che accennava dobbiamo rivedere quella mission perché ritrodotti in altri termini non si riesce più ad avere con questi rapporti economici un discorso sul territorio e l'altra questione che ci arrivo veramente alla chiusura è se è vero che la stagione lirica e sarà sicuramente vero comunque è stata permessa quest'anno grazie a una razionalizzazione dei costi che ha visto ragionare con i terzisti in maniera aziendalistica e questo non è che mi scandalizza però mi confligge con il discorso di sistema che facevo prima e quindi a questo punto dico visto che il teatro di tradizione si rivolge a questo territorio a queste maestranze anche questo è una questione una tantum per quest'anno o sarà una questione a cui ci dovremmo abituare perché non sono possibili altre razionalizzazioni di spesa perché se ricordo bene le parole dell'assessore Butini quando in un'altra discussione parlava della forma si parlava che insomma c'erano rischi per qualche centinaio di migliaia di euro se non si fosse fatto un percorso di non fare quest'anno la nostra tradizionale attività teatrale lirica su questo ci sono possibilità rileggendo il bilancio dell'amministrazione oppure il bilancio della fondazione è stato letto più di questo non c'è e quindi ci si rivolge solo ai terzisti con il criterio della qualità prezzo presumo ma possono essere fuori da questo territorio grazie consigliere Olivi risponde quindi graziosi e ringrazio i colleghi che hanno capito e poi ha un impegno graziosi quindi così lo possiamo liberare prego è chiaro che la missione territoriale all'inizio forse sono stato poco chiaro però quando parlavo di azienda culturale e del fatto che Iesi è il capoluogo del territorio intendevo proprio questo cioè l'idea della fondazione nacque perché Iesi fosse almeno nella cultura il capoluogo della Vallesina e aiutasse e c'era questo in un intento molto chiaro del presidente della provincia di allora Giancarli aiutasse quei comuni che come Monte Carotto San Marcello Magliolati che mette denari soltanto seppur socio fondatore io non so se sapete però Magliolati ha sempre da sempre messo nella fondazione per le attività della fondazione nel nome di Spontini 15.000 euro all'anno voi capite che 15.000 euro all'anno per celebrare Spontini è un po' poco la fondazione proprio con questo discorso dell'azienda culturale che si è posta di fronte alla regione alla provincia che c'era ai privati al ministero come ente superiore al territorio e che col territorio dialogava è riuscita ricordo soltanto con la regione Marchi all'epoca ad aumentare nell'anno della fusione nell'anno della creazione della fondazione ricevemmo subito il contributo del FUS che riconobbe la validità del progetto e della regione Marchi 50.000 euro nel momento in cui ci siamo uniti cioè che il comune chiese al teatro di gestire alla fondazione di gestire il teatro la regione Marchi compensò quello che dava alla fondazione quello che dava al comune con ulteriori 80.000 euro per cui ci fu sicuramente un beneficio anche tangibile in questo momento ti chiamano i comuni Monte Carotto Monte San Vito San Marcello capitolo cultura zero non abbiamo niente da darvi siccome noi nel contratto di servizio che stipulammo nel 2005 c'è scritta una cifra che poi è diminuita e la fondazione non ha mai goduta non credo che possiamo lavorare a piedi lista perché sennò sarebbe molto più semplice non abbiamo mai goduto né di aumenti né di assestamenti di bilancio cosa che succedeva regolarmente negli anni precedenti ho degli atti dei tre anni precedenti al 2005 quando ci fu data la gestione del teatro e so di fatti storici a novembre assestamento di bilancio la voce teatro stagione lirica veniva sempre rimpinguata della necessità che c'era per quello che riguarda la fondazione non è mai stato questo non ho mai potuto presentare un conto a fine anno con denaro in aggiunta abbiamo sempre gestito quello che era possibile con quello che c'era e ovviamente se il territorio viene depauperato dalla crisi e scemano le possibilità economiche e i comuni ti chiamano non ho più denaro finché c'è stato modo la fondazione ha fatto fronte a tutto abbiamo dal bilancio della fondazione che era composto in maggior parte dal comune di Iesi proprio per questa volontà politica di essere il capoluogo del territorio anche culturalmente parlando è stato fatto quello che era possibile ovviamente in questo momento è più difficile ma la stagione di prosa noi porteremo seppur San Marcello ha detto che non ha assolutamente una lira per il capitolo di cultura porteremo degli spettacoli a San Marcello gli abbiamo chiesto almeno il teatro aperto che poi il teatro di San Marcello ha necessità pari allo zero praticamente arriva il custode che apre tutti gli uffici del comune ti apre il teatro ti accende la luce e poi facciamo noi Monte Carotto è simile Monte San Vito ha fatto la scelta proprio di non fare più cultura fanno alcune cose però soprattutto a sbigliettamento sono teatri da cento posti chiaramente non puoi rischiare di dire sì va bene pago tutto io e prendo lo sbigliettamento perché poi non sono biglietti da cento euro chiaramente sono sempre venti trenta euro per quanto riguarda le maestranze allora io vorrei che ci fosse un approfondimento da parte da parte di tutti così come devo farlo io di quello che è di quella che è la legge nazionale la legge nazionale prevede ed è il ministero che decreta chi sei ti dà la carta d'identità tu per tuo merito sei questo o questo e intendo gli antilirici teatro e tradizione lirica ordinaria ICO se si legge attentamente il decreto ministeriale il decreto ministeriale io ne ho parlato più di una volta con il dottor Anastasi e con Graziano e loro se ne guardano bene dal fare commistioni e dal chiedere che ci sia territorialità di azione da parte dei teatri le ICO sono le ICO i teatri di tradizione sono teatri di tradizione gli antilirici sono antilirici per quello che riguarda l'attività che dobbiamo fare noi come teatro di tradizione c'è scritto che noi dobbiamo fare con minimo 45 professori e le parole successive sono italiani o europei per cui noi come teatro di tradizione non abbiamo nessun legame di parentela decretato da chi ci dà la patente di teatro di tradizione con nessuno su nessun territorio nazionale italiani o europei e molti teatri hanno l'orchestra regionale chi non ce l'ha ogni anno fa l'audizione fa le audizioni e si fa la sua orchestra cosa che anche IE si faceva quando era comunale e non c'era la cooperativa FORM e non c'era la fondazione FORM e io vi dico che da cascettario nazionale perché c'è anche da sapere queste regole di mercato se vai in un antilirico tu hai la prima parte hai la spalla il violino il primo violino poi ha le prime i primi violini il secondo i terzi così come per tutti gli strumenti e ogni strumento ha un suo costo allora il mio pur rimanendo nel cuore nel romantico nell'artistico più che vogliamo però poi alla fine vogliono essere tutti pagati gli artisti perché io mi chiedo e lo chiedo perché dobbiamo trattare con un soggetto che ha dipendenti per otto mesi all'anno per i restanti quattro non sono dipendenti della forma quindi come se io dovesse avere un sensale con cui andare a trattare un prezzo sindacale di 140 l'un per l'altro quando la legge non mi obbliga a questo e mi dice che devo minimamente rispettare la legge con 45 professori italiani e europei perché non possiamo noi e lo possiamo da legge fare le audizioni costituire una nostra orchestra e andare a trattare così come ci sono i contratti nazionali con la spalla anche 200 euro ma se sei un violino di terzo leggio prendi 80 euro come il cascettario nazionale e ovviamente io potrei fare una razionalizzazione di molto maggiore per ovviare a questo ho sempre chiesto alla regione paga una parte del costo se hanno problemi sindacali e i sindacati richiedono quel costo benissimo rispetto le scelte sindacali ma paga tu una parte di quel costo non è che non lo voglio pagare non ci si riesce più se paghi l'orchestra io dovrei scendere in particolari che sono propri della nostra professione a Macerata per reggere un core e un'orchestra di quelle dimensioni perché servono orchestra e core importanti non c'è più niente in scena cioè io vivo Macerata dal 78 l'ho cominciato a frequentare io ricordo le scenografie che venivano messe sul palcoscenico di Macerata oggi sono tutte illuminazioni tutte proiezioni per carità grande inventiva ma non c'è più niente non puoi più spendere niente perché ti costano le masse la cosa più costosa all'interno di uno spettacolo sono le masse allora la legge mi permette di andare ad una contrattazione a personam perché non lo posso fare c'è una legge del mercato del lavoro vogliamo essere solo romantici va bene allora datemi la facoltà di avere più denaro aiutatemi politicamente per avere più budget e pagare quello che viene chiesto sindacalmente dai vari soggetti grazie non ci sono altre prenotazioni credo che abbiamo chiesto molte cose ringrazio anche i colleghi che hanno capito l'esigenza dell'amministratore di allontanarsi che ha un altro impegno ringrazio William Graziosi per aver accettato l'invito allora credo che sia stata esaustiva come esposizione l'abbiamo trattenuto anche più del previsto ma ovviamente va benissimo perché le domande erano parecchie e interessanti adesso chiusa quindi la fase delle comunicazioni anche del Presidente del Consiglio Comunale ritorniamo all'ordine del giorno abbiamo da trattare la pratica iscritta al punto 11 all'ordine del giorno e quella avente oggetto l'approvazione del verbale della deliberazione della seduta consigliare del 30 settembre 2014 solitamente si apre la fase della discussione non ci sono prenotazioni la si chiude fase delle dichiarazioni di voto anche questa viene chiusa fase della votazione apriamo la votazione per la pratica iscritta al punto 11 all'ordine del giorno approvazione verbale della deliberazione della seduta consigliare del 30 settembre 2014 prego votare bacino c'è assente mancinelli santinelli mancinelli comunico l'esito alla votazione i presenti sono 17 consiglieri voti favorevoli 17 nessun contrario nessun astenuto il consiglio comunale approva passiamo ora a trattare la pratica iscritta al punto 12 all'ordine del giorno e quella avente per oggetto articolo 29 dello statuto comunale e articolo 45 dei regolamenti sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini surroga del consigliere straniero aggiunto Bhujan MD Farouk Hossein allora in qualche modo era stata anticipata la pratica da una interrogazione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Maria Teresa Mancia contestualmente era in preparazione questa pratica in qualche modo sovrapposizione delle stesse comunque la pratica vi è stata illustrata ampiamente nel brogliaccio che vi è stato inviato ricordo che l'8 maggio del 2012 c'è stato il decreto sindacale di proclamazione del consigliere comunale straniero nella persona di Bhujan MD Farouk Hossein risultava risultato eletto come consigliere comunale straniero aggiunto lo stesso Bhujan in realtà poi c'è un periodo piuttosto prolungato dal mese di gennaio a tutto il mese di settembre 2014 in cui lo stesso consigliere straniero comunale straniero è risultato assente in qualche modo ingiustificato è stata fatta un accertamento e per quello che risulta agli atti dell'ufficio qui farò una precisazione rispetto al testo che vi è stato sottoposto come risulta dagli atti di ufficio la convocazione del consiglio comunale è stata puntualmente consegnata al signor Bhujan MD Farouk Hossein nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento del consiglio comunale per i consigli comunali del 21 gennaio e 27 febbraio 2014 mentre per i consigli comunali del 27 marzo 29 aprile 22 maggio 19 giugno 3 e 28 luglio 9 e 30 settembre 2014 si è reso necessario provvedere alla notificazione essenziali articolo 143 del codice procedura civile notificazione a persona di residenza dimora e domicilio sconosciuti in quanto gli avvisi di convocazione delle sedute consigliari del 27 marzo e del 29 aprile 2014 spediti a mezzo del servizio postale e qui sta la precisazione il primo tramite posta semplice e l'altro con raccomandata AR che poi era la forma più corretta sono stati restituiti all'ufficio con la dicitura il destinatario è irreperibile poi preciso che e si arriverà anche a una modifica del regolamento perché a volte appunto in itinere i regolamenti vanno adeguati perché si riscontrano alcune carenze verrà modificato perché verrà espressamente previsto che per il consigliere straniero aggiunto la stessa previsione del consigliere normale cioè per tutti noi che c'è la decadenza automatica dopo tre assenze ingiustificate per il consigliere comunale straniero aggiunto questo non è previsto ma visto il tempo la reiterazione delle assenze nonostante le modalità siano state rispettate e da ultimo l'attestazione di irreperibilità dello stesso che è stata certificata in data 24 ottobre 2014 da parte degli uffici a seguito degli accertamenti ulteriormente fatti si è giunta appunto alla previsione su questo il consiglio comunale è chiamato a deliberare di dichiarare decaduto dalla carica di consigliere comunale straniero aggiunto insieme al consiglio comunale il signor Bujan MD Farouk Hossein è tenuto conto che quando si è proceduta l'elezione del consigliere comunale straniero aggiunto due erano i candidati l'altro candidato era il signor Cardani Chams Eddine la documentazione presentata dallo stesso da signor Cardani è stata ritenuta assolutamente regolare si chiede appunto al consiglio comunale di Iesi di surrogare il medesimo consigliere che viene così dichiarato decaduto con il signor Cardani Chams Eddine nato a Tunisi in Tunisia il 10 luglio del 1978 residente Agliesi in via Latini numero 7 candidato primo dei non eletti quindi convalidando la surroga e dando atto che il subentrante ha tutti i requisiti di candidabilità e leggibilità stabiliti dalla legge e che per lo stesso non esistono condizioni di incompatibilità come da dichiarazione rilasciata dallo stesso e ovviamente agli atti questo è il senso della delibera se appunto delibera approvata si arriva alla sostituzione del consigliere Bujan con il consigliere il neoconsigliere Cardani potete prenotarvi spero di essere stato chiaro nella indicazione della pratica non ci sono prenotazioni quindi diciamo sì la consigliera Mancia a facoltà dunque volevo motivare la richiesta dell'interpellanza allora la coincidenza vabbè la surroga c'è stata nella stessa nello stesso consiglio comunale io penso che c'ho quest'idea insomma che l'interpellanza abbia dato una spintarella però è un'idea mia perché ritengo che comunque c'è stato un certo ritardo insomma sono passati troppi mesi secondo me e invece noi pensiamo che sia urgente che la città di Iesi e questa aula abbiano un rappresentante delle comunità straniere un portavoce insomma delle loro istanze e credo che sia abbastanza urgente questi due anni e mezzo in questo senso non hanno funzionato non hanno funzionato per limiti del collega e forse possiamo fare anche un po' noi il mea culpa non so non l'abbiamo sufficientemente coinvolto e il punto è che su queste questioni probabilmente non dovremmo delegare troppo quelle poche associazioni che sono presenti nel territorio e ce ne sono però forse operano un po' troppo isolatamente così come non dobbiamo delegare soltanto alla scuola quindi da qui deve partire debbono partire delle linee chiare su come arrivare a una convivenza che sia ricchezza per tutti che non sia soltanto la diversità percepita come un problema o che faccia notizia soltanto quando i giornali si si fiondano su su certi episodi e alimentano razzismo eccetera eccetera quindi questa era la motivazione io mi auspico che qui accanto siederà un consigliere straniero che possa veramente lavorare insieme a noi grazie consigliera Mancia non ci sono altre prenotazioni sì la consigliera Lenti a facoltà noi accogliamo favorevolmente questo questo provvedimento che viene preso questa pratica che viene proposta perché sicuramente questa assenza in effetti cominciava a prolungarsi si sentiva che mancava comunque una rappresentanza importante a livello cittadino quindi accogliamo il nostro nuovo collega consigliere augurandogli un buon lavoro e che effettivamente possa portare validamente le istanze anche di queste numerose nuove diciamo presenze all'interno della nostra città così divenuta così multietnica e che sappia anche ecco contemperare aiuti ecco ci aiuti anche a contemperare quelle che possono essere le esigenze alle volte anche magari tanti al loro interno trovare il modo di collaborare perché si possa veramente camminare anche in questo senso quindi che porti le stanze e ci aiuti anche a creare un clima effettivamente di convivenza sempre più efficace e sempre più fruttuosa quindi benvenuto da parte della nostra maggioranza grazie grazie consigliere ralenti l'assessore butini sì grazie buon pomeriggio ma in realtà qualche tentativo di coinvolgere il precedente consigliere straniero aggiunto c'è stato perlomeno da parte mia con anche una risposta ricordo di avergli affidato diciamo così la gestione della partecipazione di rappresentanti delle comunità stranieri in occasione della festività civile più sentita a Iesi che è quella del 20 luglio il 20 luglio non del 2014 ma del 2013 Buiane rappresenta insieme a rappresentanti di altre comunità alla celebrazione che si tiene agli orti pace al di là di questo l'occasione è quella di sottolineare che dal mio punto di vista ma credo dal punto di vista di tutta l'amministrazione c'è la massima attenzione al dialogo con la comunità straniere quindi è importante che le diverse etnie siano rappresentate e devo dire che esiste un tessuto associativo piuttosto attivo vivace soprattutto di alcune comunità che senz'altro si metterà a disposizione del nuovo consigliere con il quale mi riprometto di entrare subito in contatto per cercare di stabilire le migliori modalità di collaborazione grazie assessore il consigliere Cingolani la facoltà si vorrei fare innanzitutto gli auguri al nostro nuovo collega come ha fatto il mio capogruppo ma vorrei fare un invito anche quando andremo a modificare il regolamento comunale di non chiamare più il nostro consigliere consigliere straniero aggiunto perché nessuno se è vero almeno io ritengo questo che le parole hanno un significato fortissimo anche nel come dire costruire relazioni positive e propositive è un consigliere comunale rappresentanza delle comunità dei migranti potremmo chiamarlo in questo modo perché nessuno può sentirsi straniero in questa nostra città e anche la parola etnia che viene utilizzata in diversi non perché adesso l'ha utilizzata l'assessore buttini ma consiglieri stranieri aggiunti etnie sono tutte parole che hanno evocano come dire sentimenti non proprio propositivi allora anche nella scelta delle parole è bene che noi ci mettiamo come dire attenzione quindi l'invito che fa per quando si parlerà del nuovo consigliere il nuovo consigliere è un consigliere della città di Iesi che rappresenta le istanze delle varie comunità dei migranti presenti a Iesi quindi io lo accolgo sotto questa veste per quanto riguarda come dire le sottolineature fatte dalla collega Mancia sulla forse mancato coinvolgimento del precedente nostro collega consigliere e sono contento che Buttini abbia fatto la sua riflessione per essere coinvolti bisogna anche lasciarsi coinvolgere penso che questa amministrazione come le precedenti nei confronti delle varie comunità presente Iesi abbia sempre avuto un'attenzione particolare dimostrata nei fatti sia precedentemente che in questa amministrazione cercando di creare le condizioni soprattutto perché anche i migranti di seconda generazione possano in qualche modo inculturarsi sempre di più nel nostro territorio io sono convinto che su questa linea l'amministrazione continuerà e sono altrettanto convinto che il nuovo consigliere comunale si lascerà coinvolgere in questa nuova modalità di operazione all'interno delle comunità che lui va a rappresentare benvenuto grazie consigliere Cingolani il consigliere Catani a facoltà grazie presidente due parole anche da parte del nostro gruppo c'è un benvenuto e un augurio di buon lavoro al nuovo consigliere che tra l'altro conosciamo già sappiamo che è ben inserito nella tagliesina parla benissimo italiano sia anche il volontario in associazione volontariato mi pare che sia e quindi penso che ci siano tutti i presupposti perché questa presenza sia positiva e costruttiva nell'ambito della collaborazione che ci deve essere appunto nell'ambito di una città che oramai come diceva stamattina qualcun altro è una città multietnica quindi ormai questa è la strada che dobbiamo percorrere e penso che Cardani sia la persona giusta il discorso che faceva mi trovo d'accordo quello che diceva il consigliere Cingolani forse è il caso di valutare che questa parola cioè il consigliere Staniero aggiunto forse rivista e sia modificata in qualche altra nomenclatura più più confacente grazie grazie consigliere Catani non ci sono altre prenotazioni quindi chiusa la fase della discussione apriamo quella delle dichiarazioni di voto eventuale una risoluzione una risoluzione chiedo scusa Marasca consigliere Marasca sì presidente ma semplicemente per fare un augurio al nuovo consigliere che siederà insieme a noi in quest'aula consigliare e ovviamente per manifestare la nostra intenzione la nostra apertura a qualsiasi iniziativa che vorrà proporci rappresentanza dei suoi elettori e comunque della comunità che a Iesi vive che è molto eterogenea ma che comunque sia in questi anni ha dimostrato responsabilità e buona capacità di inserimento nella nostra città quindi da questo punto di vista noi siamo aperti assolutamente a qualsiasi iniziativa e le auguriamo un buon lavoro e una buona permanenza in questo consiglio comunale grazie consigliere Marasca consigliere Giampoletti a facoltà sì grazie presidente anche noi come gruppo insieme civico vogliamo fare il benvenuto a Cardani io personalmente lo conosco da da molto tempo è molto introdotto parla molto bene la lingua italiana e poi nello stesso tempo anche diciamo volontario volontario di mi sembra protezione protezione civile siamo disponibili per qualsiasi cosa noi siamo qui personalmente ci conosciamo sai dove mi trovo e per tutte le vostre iniziative giustamente la voce di tutte le persone straniere e concordo anche con Paolo Cingolani per cambiare diciamo l'aggettivo non più consigliere aggiunto perché mi sembra abbastanza antico questa cosa ecco ecco adesso poi dopo quando interverrai ci dirai come la puoi pensare grazie grazie consigliere Giampaoletti non ci sono altre prenotazioni quindi chiusa la fase anche delle dichiarazioni di voto mettiamo in votazione la pratica iscritta al punto 12 all'ordine del giorno e quella aventa d'oggetto articolo 29 dello statuto comunale e articolo 45 dei regolamenti sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini surroga del consigliere straniero aggiunto Bougian MD Farouk Ossain votazione aperta prego votare Francesco Rossetti Donofrio 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 Torri no Torri ok Giampaoletti ecco Donofrio manca sempre ecco a posto a posto comunico l'esito alla votazione i presenti sono 21 consiglieri voti favorevoli 21 nessun contrario nessun astenuto il consiglio comunale approva mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera prego votare nuovamente ancora no votazione ancora non aperta ecco adesso sì cingolani cingolani santinelli comunico l'esito alla votazione i presenti sono 21 consiglieri voti favorevoli 21 nessun contrario nessun astenuto il consiglio comunale approva anche l'immediata esecutività a questo punto invito Cardani Ciam Seddini a prendere posto può entrare si può accomodare ben arrivato ben è vicino la consigliera Mancia se vuole dire qualcosa può prenotarsi e le do la parola a lei buonasera a tutti ringrazio tutti per l'accettazione poi vorrei dire una parola che qui sono per tutti sia straniere che italiane perciò per me non c'è differenza tra straniero e italiano e spero che sarò un nucleo positivo per tutti perciò sarò con tutti dove sta il meglio per la città di Esi no no me lo sono perso allora passiamo ora a trattare il punto tredici dell'ordine del giorno ah comunico una cosa che non avevo comunicato prima perché assente giustificato il consigliere Giorgio Rossetti eh allora punto tredici all'ordine del giorno programma triennale dei lavori pubblici annualità duemila quattordici duemila quindici duemila sedici elenco annuale dei lavori per l'anno duemila quattordici integrazione presenti illustra la pratica l'assessore Bucci a facoltà sarò molto breve se mi consentite perché sono stanco allora si tratta di aggiornare il vigente piano annuale dei programmi dei lavori pubblici che faceva parte del triennale duemila quattordici duemila quindici duemila e sedici con l'obiettivo di integrarlo di una maggiore spesa dell'ordine dei centotrenta mila euro per dotare le piscine comunali oramai perché è stata realizzata anche la seconda di ulteriori di ulteriori spogliatoi al fine di renderli fruibili al meglio sia le persone adulte sia i giovani sia le giovani e sia i bambini per non creare non mi viene il termine esatto mezz'ora ci ho pensato la promiscuità come è giusto che sia l'ordine della spesa come ripeto sono centotrenta mila euro e verranno recuperati dall'amministrazione dalla società che ci paga un canone anno punto grazie assessore consigliere Marasca a facoltà sì anch'io velocissimo un chiarimento siccome abbiamo già credo nel corso di questa legislatura investito credo delle risorse comunali per ampliare l'attuale impianto di Via del Molino se non ricordo male per l'ulteriore piccola piscina per i bambini in fondo all'impianto e credo che anche lì siano state risorse del comune anche in quell'occasione siccome oggi vedo che c'è questa integrazione per 132 mila euro pubblico privato innanzitutto volevo capire quanto fosse in carico al comune se il comune si fa carico di una parte di questo ulteriore finanziamento e soprattutto vorrei capire se nella convenzione come nella precedente convenzione con il gestore della piscina comunale le spese di straordinaria amministrazione come queste sono in capo al comune o in capo a chi gestisce la piscina perché io ricordo che in passato nella convenzione le spese di straordinaria amministrazione erano in capo al gestore poi questo sinceramente non è stato sempre fatto puntualmente io di quello me ne sono anche occupato facendo le segnalazioni dovute in questa occasione invece vorrei capire ma tutti questi lavori di straordinaria amministrazione li facciamo noi perché la convenzione prevede quest'onere in capo al comune oppure questi lavori li facciamo noi ma è un onere che è in capo per convenzione al gestore e soprattutto almeno per chiarezza quanto il comune ha finanziato l'anno scorso e quest'anno come importo totale per ampliare l'impianto di via del mulino perché è chiaro che se noi facciamo una convenzione e la facciamo per un certo canone e quella gestione si regge su una certa situazione di tipo economico è normale che se noi andiamo a ampliare la piscina ampliare spogliatoi ovviamente quello è un altro impianto però mentre prima il contributo diciamo più alto era giustificato da queste spese straordinarie in capo tant'è che è stato rifatto totalmente ex novo l'impianto di via del mulino evidentemente allora a questo punto io credo che la spesa di straordinaria amministrazione sia tutta in capo al comune allora chiedo un chiarimento da questo punto di vista siccome è la seconda spesa di questi importi che noi facciamo nei confronti di quell'impianto grazie consigliere Marasca risponde il sindaco sì io ho nostalgia per la vecchia convenzione non ce l'ho però vorrei in attimo rispondere per quello di cui mi sento responsabile e dico beh no mi pare che viene citata dunque probabilmente degli aspetti positivi io non vedevo e non vedo aspetti positivi in quella convenzione allora la situazione è questa il comune di Iesi ha riappaltato la gestione della piscina comunale se non sbaglio e chiedo scusa mi pare la fine dello scorso anno no abbiamo appaltato abbiamo fatto una gara dove era prevista la realizzazione anche di una piscina da parte del comune di Iesi di una piccola piscina perché quella che veniva utilizzata alla scuola Conti in realtà era una piscina che non era più a norma che creava innumerevoli problemi al gestore e a chi stava lì nella struttura perché stava all'interno di una scuola pertanto è stato fatto un appalto all'interno dell'appalto si sapeva che venivano fatti questi lavori e veniva fatta anche questa piccola piscina dunque in gara è andato tutto questo pacchetto e ricordo a tutti che siamo passati le spese di ordinaria amministrazione correggetemi se sbaglio rimanevano come sempre del resto a carico del gestore quelle di straordinaria manutenzione a carico del proprietario poi che cosa è accaduto è accaduto che il gestore ha segnalato che c'erano delle criticità dovute praticamente al fatto che i più piccoli si spogliavano con i più grandi ci hanno chiesto la possibilità di allargare di verificare se c'era l'opportunità di allargare gli spogliatoi considerando che quella è l'unica struttura comunale per quel tipo di attività abbiamo pensato che fosse cosa giusta fare anche questo tipo di intervento l'abbiamo fatto con 85 mila euro adesso vado a memoria che è la cifra che il comune incasserebbe dal gestore per l'utilizzo della piscina la differenza la mette il gestore cioè gli esini si ritrovano con un impianto completo dove vanno sia i grandi che i più piccoli e con la piscina con i spogliatoi allargati proprio perché per evitare che i più piccoli si spoglino con i più grandi perché se no accadeva questo questo è quello che è stato fatto la logica che c'è dietro questa scelta grazie non ci sono uno per volta Marasca chiede ok posto non ci sono non ci sono altre domande no quindi non ci sono prenotazioni chiusa la fase della discussione apriamo quella delle dichiarazioni di voto eventuali non ci sono dichiarazioni di voto quindi chiusa anche questa fase mettiamo in votazione la pratica scritta al punto 13 all'ordine del giorno programma triennale dei lavori pubblici annualità 2014 2015 2016 elenco annuale lavori per l'anno 2014 integrazione prego votare quasi ecco adesso si massimo cingolani lenti no lenti non c'è santinelli giampaoletti lenti se la zera ecco comunico l'esito alla votazione i presenti sono 18 consiglieri voti favorevoli 14 nessun contrario 4 gli astenuti consiglieri mancinelli marasca francesco rossetti mancia il consiglio comunale approva mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera prego votare nuovamente marasca magagnini santinelli giampaoletti giampaoletti ancora ecco a posto comunico l'esito alla votazione i presenti sono 18 consiglieri voti favorevoli 14 nessun contrario 4 gli astenuti consiglieri mancinelli marasca francesco rossetti mancia il consiglio comunale approva anche l'immediata esecutività passiamo ora a trattare vedo scuso un attimo passiamo ora a trattare la pratica scritta al punto 14 all'ordine del giorno e la variante parziale al piano regolatore generale per l'ampliamento dell'area per servizi sociosanitari in via murri approvazione esensi degli articoli 15 comma 5 e 30 della legge regionale numero 34 del 92 e successive modifiche ed integrazioni presenti illustra la pratica l'assessore bucci bucci la facoltà allora come vi ricordate circa 60 giorni fa abbiamo adottato la variante al prg per ampliare la destinazione urbanistica già esistente a s1 1 h cioè area atta ad ospitare interventi socio-sanitari a case di riposo con l'ulteriore area di fianco che è confinante con il nostro serbatoio dell'acquedotto trascorsi 60 giorni di pubblicazioni non sono pervenute osservazioni si tratta dell'approvazione finale come qualsiasi altra pratica urbanistica edilizia più scusa ho finito ciao no no questo è no questo non è chiede di richiarla si provveda in tempi rapidi a un passaggio in commissione della pratica allora consigliera mancia facoltà si lei assessora ha ragione non sono in 30 giorni non sono arrivate nessuna osservazione eh 60 vabbè non sono arrivate osservazioni e quindi però il punto è che che magari non sappiamo niente di questo di questo di questo progetto la cittadinanza meno che meno quindi se potessimo fare una una commissione come è scritto nella nella proposta di di risoluzione se la potessimo fare postuma questa cosa e e oltretutto poi successivamente coinvolgere la la popolazione io non penso che sarebbe una cosa sbagliata perché comunque le cose rimangono sempre molto dentro il palazzo ritorno al discorso di stamattina colpa nostra che non siamo venuti negli uffici ma è ripeto quello che ho detto stamattina non si arriva dappertutto e se ci fosse un sistema più più veloce non dico trasparente presidente ma più veloce nella consultazione quindi io parlo di fascicolo delle pratiche un fascicolo informatizzato in modo tale che si possa accedere anche da casa al limite anzi senza al limite forse potremmo tendere a questo allora sì che i progetti sarebbero veramente più conosciuti e condivisi questo è il senso anche della risoluzione quindi l'ho già anticipata Assessore chiedo scusa Dito vorrei precisare alla consigliera che qui non parliamo di progetto parliamo di variante urbanistica di un'area che prima c'era una destinazione pressoché simile perché con S ovviamente si intendono i servizi ma siccome la prima parte S1 1H che è proprio quella dedicata all'insediamento di chiamiamolo con nome e cognome case di riposo l'altra invece di essere S1 1H era S1 1 non mi ricordo se era V ma ha aggiunto quell'H ma noi predisponiamo solamente l'area e la rendiamo atta ad ospitare un futuro progetto che se ne occuperà Tizio Caio Sempronio negli opportuni termini finanziari economici procedurali punto vorrei dire è solamente una questione urbanistica punto quindi non è il progetto Consigliere Cingolani Facoltà Sì la risoluzione presentata dalla consigliera Mancia naturalmente va oltre quella che è l'approvazione di questa definitiva è questa variante è risaputo che questa amministrazione nel suo programma di mandato ha come come dire intenzione quella di addivenire alla realizzazione di una nuova struttura della cassa di riposo un obiettivo principale di questa amministrazione dettato anche dalle necessità di natura amministrativa perché diciamo l'autorizzazione alla nostra cassa di riposo per quelli che sono gli standard strutturali è vicina alla decadenza nel senso che la regione nell'autorizzare le RP le residenze protette ha dato dei tempi per adeguarsi alle norme strutturali la nostra attuale cassa di riposo quindi non risponde più oggettivamente a quelli che sono gli standard di tipo strutturali per cui si dovrà andare alla costruzione della nuova cassa di riposo comunque è risaputo che questa amministrazione vuole andare alla costruzione della nuova cassa di riposo naturalmente nelle prerogative di una maggioranza è quella anche di fare delle previsioni e di andare a individuare delle aree l'area che questa amministrazione ha individuato per la progettazione e la realizzazione di questa nuova cassa di riposo è l'area di cui noi oggi andiamo ad approvare la variante definitiva perché diciamo l'area a disposizione non sarebbe sufficiente per quello sempre che la regione ci dice che le nuove rp devono essere 80 posti per 80 posti c'è uno standard strutturale abbiamo bisogno di una determinata area quindi la variante ha questo significato io penso che la proposta che viene fatta dalla consigliera Mancia possa essere accolta cioè intenzione dell'amministrazione essendo la cassa di riposo nuova una cassa di riposo per la città è sicuramente nostra intenzione poterla portare in discussione ma non in commissione soltanto prima in questa aula consigliare poi con un incontro di tipo pubblico ma ancora diciamo non abbiamo nessun tipo di progetto come dire preliminare ma soltanto l'intendimento politico e stiamo cercando di trovare quello che è è lo strumento finanziario che ci potrà consentire poi di andare ad un progetto preliminare quindi andremo ad una discussione nel momento stesso a cui abbiamo un progetto da presentare che quell'area che comunque quell'area sarà in qualche modo destinata a questa funzione è cosa certa ma penso che questo si lega tra le righe di tutta la procedura che è stata fatta e ci muoveremo in questa direzione personalmente Presidente ritengo che la risoluzione possa essere accolta perché noi porteremo nel momento in cui avremo tutte le carte in regola per presentare un progetto alla discussione del Consiglio Comunale della competente Commissione e anche della cittadinanza Grazie consigliere Cingolani consigliera Mancia Sì io prima mi sono espressa male ma è chiaro che l'idea c'è non c'è il progetto ho sbagliato a usare le parole ma appunto tanto più se non c'è il progetto sarebbe utile ascoltare anche le idee degli altri degli operatori pure perché più è condivisa la cosa e meglio evitiamo poi le posso dire insomma le sceneggiate però insomma le cose che sono anche successe stamattina è l'idea proprio della partecipazione che bisogna mettere più in pratica era questo il questo è il senso io potrei avere anche un'idea diversa della casa di riposo per esempio secondo me gli anziani non li dobbiamo pensare soltanto come malati ci possono essere e ci sono anche gli anziani autonomi allora perché non pensare all'interno del progetto a dei mini appartamenti cioè entriamo in merito entriamoci insieme in modo in modo da da produrre qualcosa di più di più condiviso grazie consigliera Mancia sì consigliere Magagnini a facoltà la commissione consigliare esamina le pratiche che vanno in consiglio in consiglio questa c'è andata l'indicazione della consigliera Mancia circa un dibattito interessare all'opinione pubblica va al di fuori delle competenze della commissione consigliare ci può essere la commissione consigliare esamina le pratiche che vanno in consiglio che poi si voglia sentire le varie associazioni e categorie sono iniziative dell'amministrazione ma che non hanno nulla a che fare con la commissione perché in commissione che dovremmo raccogliere si deve raccogliere indicazioni suggerimenti su come sarà la casa di riposo non ne credo che sia oggetto se mi permettete non saprei che cosa discutere in commissione consigliare se poi invece si vuole fare una discussione si vogliono raccogliere indicazioni che potranno servire a chi dovrà dare suggerimenti a chi dovrà interessarsi effettivamente la sua casa di riposo ma è un discorso che va al di fuori della commissione ecco oltretutto qui trovo scritto in termini brevi siamo in una fase addirittura primordiale ancora non c'è l'interessato non c'è il progetto non c'è niente quindi commissione non ci può andare ma soprattutto nemmeno nei tempi indicati dal consiglio dato dalla consigliera Mancia consigliere Cingolani una nona replica una precisazione cioè voglio dire alla consigliera Mancia che quando parliamo di casa di riposo non possiamo parlare di persone autosufficienti perché per norma regionale noi possiamo convenzionare nella casa di riposo vecchia o nuova che sia solamente le persone che sono per le nuove intendo per le nuove le persone che sono in situazione a bassa media o alta diciamo intensità assistenziale non è prevista dalla norma regionale diciamo come dire il coousing sociale per la terza o la quarta età eccetera per cui ne discuteremo di questo ma non può rientrare nella discussione di una struttura che ha una funzione socio-sanitaria ad alta componente sanitaria perché c'è la compartecipazione alla spesa della regione discorsi ne possiamo fare tante ma quando passiamo di casa di riposo non parliamo più della casa di riposo di un tempo parliamo di una residenza protetta ad alta componente sanitaria quindi non c'è posto come dire per le altre strutture peraltro per come la penso io io sono per un come dire creare delle possibilità di far permanere gli anziani il più possibile a domicilio quindi purtroppo la situazione ci impone stante la situazione attuale del non rispetto non riusciremo più a rispettare gli standard strutturali in tempi rapidi della nostra vecchia casa di riposo di andare verso un nuovo progetto comunque ne discuteremo sicuramente non ci sono altre prenotazioni quindi chiudiamo la fase della discussione apriamo quella delle dichiarazioni di voto ovviamente sulla pratica variante poi vedremo la risoluzione non ci sono dichiarazioni di voto quindi chiusa anche questa fase mettiamo in votazione la pratica iscritta al punto 14 all'ordine del giorno e la variante parziale al piano regolatore per ampliamento dell'area per servizi sociosanitari in via murri approvazione essenzia degli articoli 15 comma 5 e 30 della legge regionale numero 34 del 92 e successive modifiche ed integrazioni votazione aperta prego votare filonzi santinelli donofrio catani filonzi ecco posto comunico l'esito alla votazione i presenti sono 19 consiglieri voti favorevoli sono 15 nessun contrario quattro gli astenuti sono i consiglieri Marasca Bornigia Francesco Rossetti Mancia il consiglio comunale approva mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera prego votare nuovamente torri comunico l'esito la votazione i presenti sono 19 consiglieri voti favorevoli sono 15 nessun contrario quattro gli astenuti consiglieri Marasca Bornigia Francesco Rossetti Mancia il consiglio comunale approva anche l'immediata esecutività ora grazie a tutti grazie a tutti